Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video finalmente ragazzi Tornati in una nuovissima serie di Minecraft Vanilla Ragazzi avrò fatto 40.000 serie sulla Minecraft Vanilla Il problema è che nessuna sono riuscito a portarla avanti perché voi non avete lasciato like Quindi se vi piace questa serie mi raccomando lasciate like Perché ragazzi sarà una serie un po' diversa dal solito Prima cosa si svolgerà nella versione 1.11 di Minecraft Quindi l'ultima roba nuova bellissima stupenda che io non conosco Poi si baserà anche su degli obiettivi che voi darete Adesso vedrò come strutturarla E infine ragazzi si baserà totalmente sul costruire delle cose stra fighe Quindi ragazzi spero davvero che questa serie vi piaccia In tal caso lasciate like Andiamo subito a costruire il nuovo mondo che chiameremo appunto Minecraft Vanilla Ok ragazzi ho aggiunto la chest bonus perché siccome sono povero mi serve la chest bonus Cioè dico figa ci serve Ok ragazzi sta caricando il mondo sperando che ci esce qualcosa di bello Ok ragazzi eccoci qui in questo nuovo mondo sperando che ci riserva qualche sorpresa subito Allora andiamo subito a prendere la roba nella chest che non è male È legna scura Un'ascia che fa sempre comodo sia per usarla come arma Che come appunto Tagliaerba Che cosa c'entra il tagliareba non lo so Taglia legna E ragazzi deve subito andare ad esplorare Perché tanto abbiamo due mele qualcosa Andiamo qui in questa zona dove ci sta La pineta Che ragazzi non so che ci sono nuovi biomi Nuove costruzioni Purtroppo e dico purtroppo conosco veramente poco la versione 1.11 Perché ho dedicato il tempo a giocare sui server E anche per questo che ho paura che non appreziate molto la serie E qui c'è un canyon signori Cioè raga vi rendete conto Il tempo di dire c'è un canyon E l'ho subito esplorato E ho perso tutto Allora dobbiamo andare verso di là Cioè raga iniziata benissimo Proprio caduti in un modo brutale Da uno scheletro che ci ha fatto l'attentato Raga la cosa più brutta no? Né che lo scheletro si è fatto sentire No nel momento giusto si è fatto sentire Bastard Allora raga dobbiamo ritrovare Ma io come faccio a prendere quella roba là sotto adesso? Ma soprattutto dov'è quello scheletro bastardo che mi ha colpito? Wewe Wewe Ah era lì Ma scusi io non sono sceso mica qua Oh ma tu come stai riprendendo? Ma scusi No Non venire qua Maronna mi ho paura Ho paura Eh raga comunque che faccio a scendere senza Devo provare a fare una cosa atletica Attenzione Ho molta paura E ci sono riuscito a fare una cosa atletica Però attenzione perché Stavo cadendo mon amour Stanno i salti automatici mon amour Cioè raga c'ho questa canzone in testa ormai Allora Dove sta Dove sta Dove sta Dove sta L'esalta automaticos Ah ok Mi ero dimenticato Ok Scendiamo ancora piano Ok non siamo morti E raga dobbiamo trovare la roba Eccola qui Eccola qui la roba Qui ci sono due bastoncini giusto per no? Giustamente Però ora dobbiamo risalire Eccoci qua E andiamo a prendere subito questa roba qua Wow Ho fatto l'obiettivo taglia legna Anche se non l'ho tagliata Vabbè raga la cosa positiva Che siamo finiti qui no? Molti diranno Luca ma qual è la cosa positiva? La notte non puoi manco farti il letto Però io direi di rimanere qui sotto Abbiamo poca legna Questo è vero Però Ci facciamo un attimo un piccolo di pietra E ci prendiamo già il ferro Poi magari risaliamo Raga come primo episodio Non può durare tanto Questo mi sembra ovvio Perché soprattutto Non so se la serie vi possa piacere Vi Dovete Calcolare Fate il calcolo Che questa serie Raga Sarà composta Di episodi molto più lunghi Perché non è come un server Perché tu fai quel poco Che puoi fare E basta Qui bensì Possiamo fare di tutto e di più Farm Automatiche Non Costruzioni fighe Giusto per abbellire Quindi raga Qui c'è stata tanta roba da fare E devono durare tanti episodi Soprattutto come piace a voi Che me lo state chiedendo sempre Ed è arrivato il momento Di fare video un po' più lunghi Ok raga Noi abbiamo già un botto di ferro E credo che la prima cosa da fare È farci A parte gli attrizi Anche full diamond Perché sai com'è Raga È sempre buono Essere protetti Fin dall'inizio Soprattutto perché Dovremmo fare una nottata Contro i peggiori mostri Del mondo Allora Prendiamo un pochettino tutto Raga Magari scatterà un pochettino All'inizio Ma sapete Appena start il mondo Può darsi che dà qualche Problemino di scatticchiamento Ma spero dirò Allora Andiamo qua Perché raga Davvero c'è un botto di ferro Magari in questo canyon Ci sono anche Delle insinature Dove si può andare Ci stanno i pozzi di lava E successivamente Ci sta il diamanto Tutta questa roba Villa Però raga Adesso non è il caso Di esplorare Prima cosa direi Di farci queste prime cose Che sono le basilari Soprattutto perché Tra poco arriva la notte Raga E la notte L'averto è bruttissimo Soffrirò tantissimo Soprattutto Allora Che poi non è proprio L'averto raga Sto nella grotta qua Di San Gennaro Però comunque Non è che sia una costitante Affidabile Giusto Perché gli scheletri Possano arrivare dovunque Dico gli scheletri Perché l'unica cosa che so Che nella nuova versione Gli scheletri Sono diventati Immortali Soprattutto Rompiscatole Perché sono più forti Ah raga Un'altra cosa Se voi preferite Che io utilizzi Una texture pack diversa Fatemelo sapere Io sono abito Ad usare quella default Però per voi Potrei anche cambiare Tranquillamente Perché magari sul server Facendo sempre riferimento A The Legend Ci sono molte più cose Anche se quella default Non fa pena Qui che è tutto il mondo A base Può darsi Che può dare fastidio Beh Sta a voi decidere Io ragazzi davvero Spero che arriviamo All'incirca E 30 like Per questa serie Sapete che Sono abituato a chiedere like Perché i like Fanno fighi Perché fanno soldi Ma semplicemente Per capire Se piace la serie Quindi mi raccomando Raga Lasciateli Se volete Che la serie Vada avanti E non dite E vabbè Lo lascerà quello là A posto mio No raga Fidatevi Non tutti lo lasceranno Quindi se volete Portarla avanti Mi raccomando Condividete soprattutto Perché anche la condivisione È importante Perché ho visto Molte serie In cui dicevo Scusate questi Continui giochi di parole Come raga Per esempio Però raga Fa parte del mio discorso Allora Altri video che portai Dissi Raga Raggiungiamo I 20 like Che porterò Alla serie E allora Tutti carichi Sì Lasciamo Se 20 like 20 like E 80 views E roba così Quindi ragazzi Vuol dire che Automaticamente Interessa Poca parte Del mio canale E quella piccola parte Mi dispiace Ma non posso accontentare Solo voi Capite che Sono 1500 Anzi Quasi 600 iscritti È meglio di fare un po' La parte di tutti Diciamo così Allora raga Io direi 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 Che intanto che Quoque Possiamo andare giù A vedere un pochettino Che c'è sta Magari troviamo C'è l'oro Però l'oro Non ci serve un ghezzo Sento lava E infatti Secondo me Qui c'è qualcosa Raga Allora Secondo me Già nel secondo episodio Potremo andare ad esplorare In modo che In primi episodio Magari ci Facciamo un po' Di armatura Un po' Di quello che serve E poi nei prossimi Cominciamo anche a costruire Quindi vediamo un pochettino Come si può Ok si Bella sta cosa Come si può fare Allora Ci abbiamo già il primo ferro E possiamo farci Una spada Anche se volendo Posso fare l'ascia Che vale per tutte e due E infatti Raga penso che faccio l'ascia Perché di tanto la spada Molti me l'hanno sconsigliata Molti del TS Perché dice tanto È uguale Praticamente È uguale all'ascia A sto punto fatti l'ascia E farò soltanto l'ascia Che poi oltretutto Se lo sbaglio Fa anche più danno 9 di attacco Quell'altra faceva 6 Che poi qui ragazzi Più pisi Dobbiamo aspettare Che si carica Ma da quante cose nuove Nuove non tanto Ma non sono abituato Allora facciamoci tutti Attrezzi base Ossia anche la pala E adesso possiamo farci I caschetti Le varie cose Però raga Dovremmo andare a prendere Della lana Ma è una cosa Abbastanza Improponibile E quindi dovrei stare La notte qui A soffrire Come un cane Poi dipende Quale cane Perché i miei Più sapere Per una parentesi Stanno benissimo La notte Proprio Nel cuscino Perché loro C'hanno proprio La cuccia Col cuscino Sviluppato Proprio C'hanno La cuccia moderna Allora Vediamo un pochettino Allora Qui Abbiamo preso Il ferro Sì ragazzi Molti ci stanno Facendo caso E non posso Nasconderlo Sto dicendo Un po' di roba a caso Giusto per Intrattenere Ma devo dirvi la verità Fine che siamo Agli inizi Sono tutte parti mosce Diciamo Quindi È normale Che sia un po' così Cioè C'è sta no? C'è sta che sia un po' mosce All'inizio no? Poi dopo piano piano Cioè Figa Cioè Se fa tanto Che poi ragazzi In nata Devo un dubbio Luke ma sei di Napoli Sei di Sicilia Sei del nord Dove sei? Ragazzi Non sono nessuno Di queste qua Eh mi dispiace Sono del sud Sì Però non vi dirò mai dove Oh Che fai perché Mi sono fatto i gambali Ti ho fatto una La La corazza Signor E basta Sto prammi Signor Scusi Ho capito che lei C'ha gusti diversi Dai miei E vabbè L'arriva un altro L'arriva un altro L'arriva un altro E basta Allora La legna La legna La legna non la userò Per barricarmi Ma questo qua Tranquillamente Sì sì Tu fai i cazzuti Sì 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 Oh Oh No No Strunze Strunze Oh Morto Ok Ok Mettiamola qua Ok Come se non fosse successo nulla Siamo tutti tranquilli Tutto a posto Faremo una piccola casetta Magari Ragazzi la notte la passerò off camera In modo che non vi scoccerete a guardare un cretino Che rimane fermo per tutta la notte Soprattutto perché sta per arrivare la notte Ho sbaglio No Ancora no Effettivamente Allora Vediamo un pochettino di fare questo 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 Oh Mi fai saltare signore Ecco qua Questa è la protezione minima Per quello che ci serve per adesso No Però meglio levare queste cose qua Così facciamo meglio Non vorrei mai che ci fanno la salta E mi aprono Il sederino appena iniziato Vediamo quanta roba c'ho E vabbè Ma quanta roba Quanta roba Raga E anche corazza fatta Ma siamo partiti proprio bomba Più o meno credo In una decina di minuti Di video Più o meno sono usciti Abbiamo fatto già il mondo Anzi aspetto il prossimo Così faccio il caschetto E posso andare a fare rugby Inoltre Dobbiamo aspettare un altro Ferro Per farci i piedini Perché i piedini sono importanti Cioè raga Ma Mi dite chi è che parte così bene In dieci minuti di video Signore Forse anche di vino eh Giusto per aprire una parentesi Vabbè raga Il resto Lo farò off camera Ossia appunto I gambali Dormire la notte Che sta arrivando brutalmente Con i pipistrelli Di Batman Comunque Se volete la serie Mi raccomando Lasciate tanti like Commentate Con dei commenti positivi Oppure delle critiche Per dire No look Non lo fare Condividete il video Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo Alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti